Anche la CGL parteciperà domani a questa grande manifestazione di Pescara per chiedere mari e fiumi puliti. Sì, noi come Camera del Lavoro di Pescara abbiamo aderito convintamente a questa manifestazione, insieme a noi anche la Feder Consumatori Abruzzo, la Filcams di Pescara, che è la categoria che segue i lavoratori del turismo. Abbiamo aderito anche caratterizzandoci con un nostro slogan che è quello di lavoro pulito, perché noi teniamo alla tutela dell'ambiente, teniamo a un mondo migliore per il futuro dei nostri giovani, ma teniamo anche alla qualità del lavoro di chi opera nel turismo, perché dai nostri dati risulta che in questo settore ci sia molto lavoro precario, molto lavoro nero, molto lavoro affidato a voucher. Quindi noi crediamo che in una prospettiva di sviluppo serio bisogna considerare anche quelli che sono i diritti dei lavoratori. Avete ricevuto tantissime adesioni. Sì, da parte delle forze sociali, ovviamente i movimenti dell'acqua, della difesa dell'ambiente, i settori economici più importanti di questa città, che vogliamo ricordare non è industriale, che quindi è basata anche sul turismo, sul commercio, eccetera, e quindi questa lotta che è per l'acqua è in realtà per la vita, perché l'acqua è vita, ma anche per la vita economica e sociale di un'intera città. Vogliamo che domani la manifestazione sia allegra, gioiosa, importante e che suoni la sveglia definitiva ai politici e alle istituzioni perché si mettano a testa bassa a lavorare per questa grande opera, la vera grande opera, carissimi governatori, assessori regionali e comunali, eccetera, e quella del risanamento ambientale dei nostri territori, dei nostri fiumi e del mare.